Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi su Minecraft proviamo a fare i si può fare per vedere se possono essere interessanti anche dentro questo gioco e proveremo un po' di cose che lasciano dei dubbi se hanno effetto o meno Allora, sei pronta mia cara? Assolutamente sì, ne ho uno bellissimo, vai, vai, lo dico, si può Steph togliere il cappellino di Natale dato che siamo quasi a febbraio? No, no, grazie, non è vero, siamo a metà gennaio, mi sta molto bene, però Steph lo devi togliere per favore, Natale è passato A Natale poi! No, no, ti prego, iniziamo Allora, 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 la prima cosa da provare quest'oggi è se dando i pugni, ok, tenendo dell'ossidiana in mano si fa più danno Ok Per farlo proviamo sui maialini, contiamo gli hit, un hit, due hit, tre hit, quattro hit, cinque hit, sei hit, sette hit, otto hit, nove hit Aspetta, non voglio farli critici Dieci hit Dieci hit Ok, proviamo senza Io direi di no, eh, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, nove, dieci Uguale identico L'ossidiana in mano non serve ad una ceppa Ok, vabbè, ci sta, era poco probabile Esatto, però Però era sensato È giusto, esatto, era sensato Perché comunque, se io ti do un cefone con una pietra in mano, ti faccio più male che a darti un cefone con la mano e basta E certo, appunto per quello aveva senso Quindi Minecraft, qui pecchiamo di realismo Come fosse l'unico problema del realismo in Minecraft Vabbè, non importa Non è l'obiettivo di Minecraft Allora, ti devo far vedere un attimo una cosa, vieni un attimino Ok Dove volare? Sì, 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 sì Ma come, me lo devi dire prima? È totalmente un mondo generato a caso Ok E sono spawnato proprio qua E vedi che c'è questo villaggio Sì Carino, no? È un villaggetto Ok, vieni in questo burrone Ok No Secondo te chi ci vive in un posto del genere? Io Voglio stare lontana dall'umanità Ma guarda qui sotto che meraviglia Sì, c'è il super burrone sotto Cioè, è un seed bellissimo ragazzi, totalmente a caso E qua vive un povero villaggio in isolato Fere Secondo me Vivere qua anche nella vita reale sarebbe top Secondo me li ha fatti arrabbiare e l'hanno isolato lì sotto Sì, anche secondo me Oppure il contrario, è lui che si è arrabbiato Vedete, questo si può fare un posto di strani, eh Che bel video Hai visto che mashup Allora, mi sono scritto la seconda cosa da fare Questa Fere qua Incredibile Ok Allora, questa in realtà me ha letto Fere Quindi adesso capirà Adesso capirà Ok, fammi vedere Però questa è la dimostrazione che nel mondo tutto torna Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici C'è sette C'è otto C'è nove Venti Ventuno C'è due Ventitré Dove vuoi arrivare Stef? A few moments later Allora, abbiamo fatto un portale 23x23 Ok Ok Se noi lo accendiamo Funziona Ok Non ho mai visto un portale del Del letter così grande Neanch'io Devo dire che è bello da vedere Ma, ma, ma Mamma mia che paura Fighissima Vai Se noi invece facciamo 24x24 Ok, ti devi allargare anche di lato Devo fare così Eh no, anche di lato Dici? Eh sì, certo 24x24 Lo stai facendo solo in altezza Devi farlo anche in larghetta E la faccio solo di uno da questo lato Eh, esatto Devi fare così Sì, 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 sì È giusto Ok Stef non capisce le misure Bene Stef è un video Quello è già 24, eh Ok Eh, infatti Ok Mi sto volendo a te Mi devo arrabbiare Non rompere Ok Perfetto Vedi che ti faccio per lamentare Ok 24x24 Funzionerà ancora Non funziona più Perché il limite di Minecraft Per creare un portale del nether Non ci crederete mai Ma è 23x23 Eh, ragazzi Questa è la grande rivelazione Stef Ho creato Minecraft No, no, no Proprio ho creato io Non ve l'ho detto E non ve lo volevo svelare E adesso vivi nella casa Quella che ti sei contestato Con Beyoncé Giusto È creatore di Minecraft Ormai vive lì a Beverly Hills È tutto un green screen In realtà voi non sapete In che casa sono Sì, anche il tour dello studio Era per farci sembrare un po' più umili Ma noi abbiamo la super villa Beverly Hills Che abbiamo rubato a Beyoncé Comunque è la cosa più bella Che è mai successa A parte tutto Credo che tendenzialmente sia Perché si sa che 666 è il numero del diavolo Ma in realtà Lo è anche il 23 Siccome il nether Un po' ricorda l'inferno Io credo ci sia Un po' questo collegamento qua Credo di sì Non lo so Oppure totale casualità Però il portale è roba mia Quindi da lì in poi Io farò solo dei portali Grandi 23x23 Cioè sarà una rottura di scatole In vanilla Però farò 23x23 Questo è molto interessante C'è una leggenda Che narra Che ogni volta Che c'è la casetta Della strega Nella palude Sì Ok Al suo interno Si trova un gattino nero Sempre Sempre Ok Vediamo se è vero Secondo me Stare C'è un gattino nero Dove sei? È qua Guarda Vedi già? Un gattino nero Eh perché il cliché Della strega Che ha il gatto nero Però per essere scientificamente corretto Dovremmo controllarne almeno due Esatto sì Oh no Anche di più tecnicamente E come facciamo a trovarne? No vai due ci basta Noi per la scienza Facciamo Facciamo che durante il video Poi la cerchiamo Perché adesso non possiamo Sì perché siamo troppo vicini A questa Ok Ok Allora Ce n'è uno Interessante Molto semplice Ok Si può mangiare sott'acqua Fatti venire fame Proviamo Secondo me si può Secondo me si può Allora Io mi do già una bella bistecca Ok Così siamo pronti Io ho subito del danno Per farmi venire fame Ok Sperando che mi venga fame E subirò altro danno Wiii Ok perfetto Ecco ho fame Allora Vai perfetto Vado sott'acqua Secondo me si può Anche secondo me Si può mangiare sott'acqua Perché non dovresti alla fine? Beh allora Aspetta È un po' strano Cioè Perché non dovresti su minecraft Sempre rimanendo sul realismo inesistente No dico su minecraft Nella vita reale è un po' più Ovviamente è difficile Riuscire a mangiare Vi voglio vedere Ragazzi non lo fate Perché poi succedono cose brutte Volevo dire anche una cosa Ok Totalmente Non c'entra nulla col video Ok Sto andassando il capello E devo giocare senza cuffie A una rottura di scatole Perché i miei capelli Sono in condizioni pietose Perché non posso andare a tagliarli Dato che ci sono un sacco di contagi E quindi sto aspettando Che i contagi del covid scengano Quindi io nel mentre Scengano? Scengano Ah scengano Ok Una nuova parola No bene si ti capisco Nel mentre sto diventando tipo A capparezza Una roba del genere In realtà è un bugiardo Eh Di l'ultima volta che te li sei tagliati Sottembre? Agosto 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 Eh i casi sono aumentati molto dopo Quindi questo è semplicemente picro Poi si è ritrovato così Adesso ragazzi è un barbone Questo è molto interessante Sono dovuto uscire dal mondo Perché dobbiamo vedere Se creando un mondo Che come seed Al mio username di minecraft Esce un bel mondo Perché la leggenda narra Che esce un mondo fighissimo Ok E tu metti il nome Di te stesso Il nome di te stesso Esatto Quindi io sono Steph il magnifico Su minecraft Quindi andiamo a metterlo così Nel seed generator E facciamo Appunto Create new world Vediamo Cosa ci capita Dimmi Steph Secondo me È totalmente a caso Quindi non sarà niente di OP Però visto L'update del mondo Che si generava Fermarsi per un attimo Al 23% Eh questo è un buon segno Questo è un buon segno Sì 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 Allora 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 Ci sei? Eh Allora Te lo presento Ok Cioè sono un po' deluso Che non c'è il bambù a prima vista Però secondo me Resolviamo subito Allora Guarda un attimino Da questa parte Una bella montagna innevata Ok Bella alta Possente Ok Con tutta la foresta Che sta su un fiume Barra lago Guarda qua che bello Ok Bella zona Cioè guarda che ho la foresta bianca Che bella Lo sai che a me il berce piace un sacco Sì Quindi molto adatto a me Questa sorta di lago Con questo buco profondo qui Per fare le escursioni Interessante Carino Un villaggio Così E non è così banale avere il villaggio Quando spawni Lo sappiamo bene tutti quanti Quindi comunque abbiamo anche questo Da questa parte abbiamo il mare Da lì abbiamo il portale Quello per andare nel ladder Quello mezzo pronto Eh c'è un botto di roba Ok Vediamo da quest'altra parte Allora io non so se si può confermare Come mito Però è sicuramente interessante Scientificamente provato Non penso Non credo Volevo dire Lì vedo anche dei garibaldi Lì sotto Quindi Secondo me è importante E da questa parte No non ci credo Fede guarda C'è anche la nave No Fede Non ci credo C'è un altro villaggio No ragazzi Allora qui c'è la nave E qua c'è un altro villaggio Sto lasciando davvero il dubbio Perché effettivamente È un seed buonissimo questo È fighissimo Quindi a me lascia il dubbio Io dico una cosa Eh Noi per ora lo teniamo Come mito confermato Ok Ma voglio sapere Da chi ci segue Da tutti i consulini Cosa succede se voi Mettete il vostro nome Come seed Ok Cioè ce lo fate sapere Nei commenti Esatto Perché c'è pure il ghiacciaio No è incredibile Allora a questo punto ci serve Una potion of swiftness Ok È giusto Swiftness Velocità Ok Swiftness È giusto Se usi una pozione di speed E poi vai su una barca Vai cinque volte più veloce Ok questo è il mito Perfetto Molto interessante Allora vediamo un attimino Io vado in survival Allora facciamo così Ok Partiamo assieme Esatto Io non ho nessun tipo di pozione Ok Ok Allora mi sono centralizzato Guarda mi metto anche In survival Della serie Non so se posso centrare qualcosa Alla creativa o meno No Ma ci mettiamo in survival Ok Allora Fermo Fermo Raddrizzati Raddrizzati Vai Ok Perfetto Bevi la pozione Vado Ok Bevo Pronta Vai Via Vai di shift Noi ragazzi utilizziamo lo shift per correre Quindi lo stiamo utilizzando E' uguale identica E' uguale identica Non funziona Non funziona Na 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 It doesn't work Allora questo sicuramente non funziona al 200% Ma chi siamo noi per non provarci Ok Dimmi Allora se tu hai Che succede? Perché lo zombie è così? Che vuol dire perché è così? Tu non lo vedi strano? No Sto provare Aspetta Stai impazzendo No forse non l'ho resso Spacca Attiva di quando abbiamo fatto il video Ricordi E se mi state chiedendo Che cos'è il guardiano? Beh Lo potete scoprire comprando questo bellissimo libro Trovate il link in descrizione per preordinarlo Esce il 3 febbraio Ma se lo preordinate Vi beccate questo poster super mega stupendo Dove se vedete appunto ci siamo noi Ci sono Il nuovo autografo di Steph I nostri autografi Guardate il mio nuovo autografo con Steph2317 potentissimo E' il primo romanzo in cui siamo protagonisti ragazzi Cioè meglio di così Esatto E dietro c'è anche la mappa appunto della fossa Che affronteremo di tutta l'avventura Che è una figata pazzesca E pure sfigata Dante Cioè C'è pure cultura Non solo è un'avventura fighissima Dove ammazziamo un sacco di gente Ma c'è pure cultura qua Importante Importante la cultura Allora A parte gli scherzi Quindi Abbiamo due zombie Ok Siete troppo vicini Non mi piace sta cosa Cioè Distanziamento qua Per favore Abbiamo due zombie Ok Se l'idea è della rotta in flash Quindi la carne marcia Esatto Loro si possono accopiare e fare un baby zombie? Secondo me no Allora Io posso solo mangiarla in questo momento Però magari Le la tiriamo ad osso No Non penso che funzioni Lo so Anche secondo me Non poteva funzionare in nessun modo Però è di quelle cose Che ti lascia almeno il dubbio Funzionato Steph Esatto Perché sono quelle cose talmente assurde Che non ti capita normalmente di provarle Quindi ti viene il dubbio E se magari sono io che invece non l'ho mai provato E questa cosa c'è Abbiamo un lama Ok Ok Dobbiamo vedere fino a che distanza è in grado di sputare Ok Ok Quindi noi Secondo me conviene però far sempre così Guarda Sì Lo chiudiamo dentro Ah Aia che male Quindi andiamo a posizionare un lama qui dentro Salve 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 Questo è un familiare sputachiotto Prendiamo delle snowball Per poterlo colpire Quanti blocchi dovrebbe Sai quanti Teoricamente si parla di dieci Ok Che lui ti spara fino a dieci blocchi Esatto Quindi prova tipo già da undici Allora Un blocco Due blocchi Tre blocchi Quattro blocchi Cinque blocchi Sei blocchi Sette blocchi Otto blocchi Nove blocchi Dieci blocchi Voglio provare da qua Ok Ok Ehi bro Ok mi ha colpito Ce la fai campione Ti prendo Sì Ok E a questa distanza Vediamo Sì No Sì Sì Perché lo vedo che ti mira Se mi prende da qua Fede Ti prende No 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 Stiamo al limite Hai visto che è andato proprio a scendere lo sputo Sì 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 Ah Peccato Ma secondo me però da qui mi colpisce Ce la puoi fare No Vabbè ma dai Ma dai ma non ti stai impegnando abbastanza Un attimo Secondo me ci arriva qua Secondo me ci arriva Cioè Voglio il Guinness World Record e il disputo di lama Io lo sto per stendere Fede Non ce la fa Oh Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Diciasette Diciotto blocchi riesce a fare Ok Questo è molto interessante Questo secondo me a fare potrebbe intripare Se è vero La leggenda narra che Praticamente questi due oggetti sono uguali Ma semplicemente hanno la texture diversa No è vero Io non ne sono sicuro No è vero Guarda quando lo cambi No 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 Cioè tu mi ricicli La forma del diamante per farmi un uovo di tartaruga Perché questo uovo è diverso di forma Sì Vedi che questo ha un doppio blocco a un certo punto Un doppio blocco Vabbè sì Lo vedi il doppio blocco alla destra Sì Sì Ecco questo non ce l'ha Questo è graduale sempre a scalino Come il diamante No La leggenda narra a fare che se sei nel neder e mangi le rotten flesh non ti avvelenano Ok E nel veleno lo sai in sindone che ti viene fame Sì sì Vado Vado Vai Mi ha velenato Niente non funziona Però ti è venuto il dubbio no Sì sì Allora devo dire che Minecraft ha dato poche soddisfazioni Sì Però comunque eri curioso di vedere come sarebbero andate le cose Sì perché te l'ho detto di certe cose non avendole mai provate un pochettino il dubbio ti viene Sì sì Ti viene da chiederti E se invece è così Non lo so Fateci sapere voi se secondo voi ci potrebbe stare a fare un altro video nel caso proprio poi ci ci prenderà delle cose da provare Vediamo se ne capitano tante interessanti Nel caso riproviamo a fare appunto il si può fare su Minecraft Comunque ci fermiamo così e ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao